Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. I carabinieri arrestano in fragranza di reato gli assaltatori dei Bancomat. Sembra finalmente risolto il mistero della banda dei Bancomat che negli ultimi mesi a suon di marmotte esplosive imperversava tra le province di Padova, Vicenza e Treviso. L'ultimo Bancomat violato la settimana scorsa in zona Guizza ai danni delle poste italiane, ma altri assalti erano già avvenuti a Cadoneghe, Padova, Alta Padovana nel Vicentino e nel Trevigiano, almeno 17 soltanto nel Padovano. Il gruppo arrestato appartiene all'etnia Sinti e questa notte il loro enesimo attacco era già fissato al Bancomat, sempre postale, di Masera di Padova. Catturati subito dopo dai carabinieri durante il colpo sorpresi poco dopo aver fatto esplodere il postmat di Via Giovanni XXIII. Conosciuti già le forze dell'ordine per essere soggetti pericolosi, Giostrai e Sinti sono specializzati nel far esplodere gli ATM con l'esplosivo. Alle due di notte dopo il fallito colpo a Masera la loro auto è stata intercettata a Bruggine nella centrale Via Roma dove si aggirava a bassa velocità, probabilmente a caccia di un nuovo obiettivo. Fermato il mezzo ne sono scesi di corsa due banditi che hanno cercato di scappare a piedi ma sono stati poi bloccati dopo un breve inseguimento ed un arresto concitato. La coppia di pregiudicati è stata arrestata mentre nella Volvo sono stati recuperati numerosi attrezzi a scasso che li hanno inchiodati, pesanti mazze, piedi di porco e picconi. Gli arrestati sono Glodinoro Maior, 36enne di Bruggine e Manuel Bonora, 47 anni di Conselve. Entrambi pluri pregiudicati anche per precedenti furti risultano svolgere la professione di Giostrai. Vista la loro pericolosità ne è stata disposta la carcerazione al Due Palazzi. Tutti al lavoro di notte per scongiurare quello che poi era uno dei nostri particolari obiettivi, di fermare queste persone, questi pregiudicati come si sono rilevati, che effettivamente gettano nello scompiglio le nottate della provincia di Padova, poi adesso vedremo le investigazioni, le attività come vanno e come progrediscono. Questi in particolar modo avevano una macchina la cui velocità giunge a livelli di 220-240 all'ora. era una macchina di quelle di cilindrata che consente di poter coprire distanze di 50-100 km in un breve volgere di minuti. Cioè la capacità di questi pregiudicati è quella di andare in velocità, fare il colpo e assicurarsi poi quella che è la fuga in un posto dove vengono recuperati e riportati al normale vivere. Il primo obiettivo era quello intanto di bloccarli in flagranza di reato, lascerete sicuramente anche la soddisfazione da un punto di vista della capacità di individuare con coraggio, con professionalità, con competenza, ma soprattutto con quella che è la grande vicinanza dei reparti e arrivare al primo obiettivo. Poi sicuramente le investigazioni continueranno e sicuramente porteranno risultati, ma questo lo vedremo da questo momento in poi. Abbiamo avuto un militare che è rimasto ferito, un coraggioso militare come gli altri, che nella manovra di avvicinamento e soprattutto in modo repentino per bloccare l'autovettura, sicuramente ha subito una grave frattura al braccio, ma è stato chiamato, è stato rincuorato, il comandante interregionale, il comandante della legione si sono curati subito di sentirlo e lui ha mostrato la soddisfazione e il coraggio di quello che tutti gli uomini dell'arma ogni giorno mettono a disposizione delle comunità. Questa mattina sono state avviate le prime consistenti opere di demolizione presso la caserma che ospita attualmente la compagnia carabinieri di Abano Terme, il comune ente proprietario, d'intesa con i vertici locali e nazionali dell'arma dei carabinieri, che ne hanno approvato i lineamenti progettuali e grazie anche al prezioso impegno della prefettura di Padova, ha programmato infatti la completa ristrutturazione con miglioramento antisismico e adeguamento ambientistico del comprensorio d'allarma di Viale delle Terme, provvedendo a una progressione dei lavori per stralci funzionali presso i tracorpi di fabbriche esistenti, ovvero l'edificio principale, la palazzina che ospita gli alloggi del personale e del comandante di stazione, la mensa e gli altri locali, nonché l'area garage autorimessa per i mezzi di servizio. Si parlerà quindi proprio della demolizione della palazzina elettrostante dell'edificio principale che sarà successivamente e completamente riedificata in linea con i più moderni standard costruttivi. Ancora la cronaca, i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Venezia, Padova e Genova con il personale dell'Agenzia delle Dogane hanno eseguito un sequestro di un magazzino in provincia di Padova, nonché di circa mille pannelli fotovoltaici e di apparecchiature elettriche e batterie. Il provvedimento è stato richiesto dopo due ispezioni di container nel porto di Genova. L'attività investigativa del NOE nel capoluogo Ligure è nata dopo monitoraggi sulle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti elettronici. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di tre persone, uno del Marocco, due del Burkina Faso, per traffico illecito di rifiuti. I tre infatti avevano organizzato almeno due spedizioni per il Burkina Faso e il togo di circa 950 pannelli fotovoltaici usati, senza rispettare le norme in materia. In particolare i tre avevano omesso di allegare la documentazione attestante la funzionalità dei pannelli e di imballarli in maniera adeguata contro i danni durante il trasporto. Tutti i pannelli provenivano da dismissioni di grossi impianti fotovoltaici presenti in diverse regioni italiane. Il cittadino marocchino, titolare della società padovana che materialmente ha effettuato la spedizione, ha inoltre indicato nei documenti di trasporto un numero inferiore di pannelli che ha attestato falsamente che il materiale trasportato era costituito da apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e non rifiuti. Padova dal 23 al 27 aprile scorso è stato il punto d'arrivo del progetto Oculus, Giovani Operatori per la Creatività Urbana, il primo progetto nazionale di formazione per operatori della creatività urbana che ha coinvolto 40 giovani provenienti da tutta Italia nella organizzazione della fase finale di questo progetto, la progettazione di dedazione e il compimento dell'opera d'arte urbana dell'artista Vesod Brero sulle facciate di una torretta idrica di Viale Codalunga. L'artista Vesod Brero, largamente apprezzato non soltanto dalle istituzioni padovane, ma anche dalla comunità che durante tutto il periodo di creazione dell'opera si è recata in cantiere per vederlo a lavoro con qualsiasi condizione atmosferica, ha scelto di reinterpretare una delle scene affrescate da giotto all'interno della cappella degli Scrovegni, il compianto sul Cristo morto. L'opera di Vesod si sviluppa sulle due facciate principali della torretta che si affacciano direttamente su Viale Codalunga, da una parte lo spirito alla chiave d'accesso dell'infinito dove lo sfondo si apre al cielo giottesco stellato, dall'altra invece la materia, ovvero le monete scintillanti e la navata della cappella che fanno da sfondo ad un dinamico gruppo di astanti. Tutto da vedere. Ancora la cronaca, ennesima spaccata questa notte allo 05 Lounge Bar di Cadoneghe, infatti distruggendo porte e finestre, i ladri hanno rubato tutto ciò che si potevano trovare sotto mano, dal fondo cassa alle scorte di cibo, perfino le bustine dello zucchero. I danni più gravi sono quelli dei senamenti che adesso andranno rifatti. Ancora problemi di sicurezza quindi a Cadoneghe che pare non essere la priorità. Nella zona di Piazzetta della Pace, importante punto di aggregazione, manca la videosorveglianza che avrebbe consentito se non altro di identificare gli autori. La spaccata al bar 05 di Cadoneghe incrementa quindi il buio circuito di criminalità di Chiara Silvia Battistini, candidata alle elezioni amministrative di Cadoneghe con Fratelli d'Italia, manifestando la necessità di maggior sicurezza per i cittadini e per i commercianti. E' Rovigo a respirare l'aria tra le peggiori del Veneto. Nel 2019 i superamenti della soglia massima giornaliera delle polvere PM10 registrati dalla centralina Ponte Marabinna a Rovigo sono già stati ben 51 a fronte di un limite annuo di 35 di superamenti della soglia di 50 microgrammi per metro cubo. Questo stabilito ovviamente dalla legge a tutela della salute. E in poco più di quattro mesi è già stato superato il livello di superamenti messi insieme nello scorso anno, ovvero 49. La futura amministrazione comunale avrà quindi al più presto trovare la soluzione per risolvere questo grave problema di salute. E' attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti al Parco Iris a Padova. In questi giorni tantissimi padovani che frequentano il grande parco cittadino di oltre 32 mila metri quadri troveranno nuovi gestini per gettare in maniera separata le diverse tipologie di rifiuto grazie anche a questa iniziativa voluta dal Comune di Padova e realizzata da Acegas APS. I cestini a Trespolo presenti nel parco sono stati sostituiti dai tecnici di Acegas con delle batterie complete composte da 5 cestini organico, vetro e plastica e lattine, carta e differenziato uniti e installati in 10 postazioni in tutto il parco. Questa mattina il taglio del nastro che ha aperto ufficialmente il Salone dei Sapori che fino a domenica 12 maggio porterà a Palazzo della Ragione a Padova il mercato coperto più antico d'Europa in piazza della frutta, in piazza delle erbe il tema della cultura del gusto, un festival food che celebra gli 800 anni del Palazzo della Ragione con il suo mercato a cui grazie alla partecipazione di docenti e ricercatori contribuisce anche l'Ateneo Padovano che a sua volta nel 2022 raggiungerà l'ambito traguardo degli 800 anni. La mattina è stata dedicata agli studenti delle scuole primarie con laboratori e spettacoli con l'effigie Le Buone Abitudini e l'obiettivo delle Buone Abitudini è aiutare i ragazzi a crescere più sani e consapevoli per poter scegliere il meglio per la loro salute e per il loro futuro. Nel pomeriggio protagonisti i primi grandi ospiti di questa edizione con Stefania Maggi responsabile scientifico CNR che era a parlare di alimentazione e di invecchiamento e Luigi Moio, docente di enologia della Università di Napoli e autore del libro Il rispiro del vino. Sì, allora è iniziata questa mattina questa cremes così importante per la città di Padova abbiamo iniziato parlando di futuro perché accogliamo qui centinaia di bambini perché il Salone dei Sapori è anche educazione alimentare, è un investimento sulla sostenibilità economica, ambientale e quindi partiamo dai più piccoli proprio per accompagnarli in questo percorso ma poi il Salone dei Sapori è sostegno alle attività economiche di questo luogo così prezioso che è il centro storico di Padova con il Palazzo della Ragione, le gallerie sotto il salone e le piazze e celebrazione di 800 anni di storia. Insomma ci sono veramente tanti elementi di richiamo per delle giornate importanti anche per renderci orgogliosi di quello che è Padova e di cosa rappresenta in termini di arte, cultura e anche di cultura enogastronomica. Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare, riviene Albertino Mussatto da venerdì 10 maggio dalle ore 8 alle ore 13 per un intervento di rinforzo di calcestruzzo nel solaio di un immobile. Poi la bretella di uscita invece di corso argentina su via Vigonovese l'uscita numero 14 da martedì 7 quindi da ieri fino a lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17 alle ore 19 per la demolizione e la ricostruzione del viadotto di corso argentina su via Vigonovese. E ancora via Montebello trattatorà il numero civico 11 e il numero civico 13 venerdì 10 maggio dalle ore 8.30 alle ore 17.30 per un intervento di manutenzione alla copertura di un edificio. E infine sarà chiusa anche via Altinate per il tempo strettamente necessario al passaggio di un autogru lunedì 20 maggio dalle ore 6 alle ore 6.30 per lo scarico di alcuni macchinari sulla copertura del Centro Culturale San Gaetano. Per chiudere domenica 12 maggio alle ore 14.30 e fino alle ore 18 si riaprono le porte della ex cabina A della stazione ferroviaria di Padova in cocomitanza con una iniziativa dal titolo Primavera Mobilità Dolce 2019 organizzata dall'Alleanza per la Mobilità Dolce. Novità di questa apertura è la realizzazione di un giro di binari in scala 0 dove piccoli e grandi potranno ammirare i modellini di treni in movimento mentre dal terrazzo della cabina si potranno vedere anche i treni, quelli veri, entrare ed uscire dalla stazione di Padova. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale. Grazie per averci seguito. Come sempre vi invitiamo a vedere il nostro sito internet www.caffettv24.it per rimanere costantemente aggiornati.